A Palazzo Badini si è avviato il primo dei sette laboratori della settimana del progetto, curata in collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone dall'ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e Industrial Design di Roma e patrocinata dagli Assessori alla Cultura e all'Istruzione e Formazione. L'Assessore Comunale Claudio Catarruzza. Oggi parte la settimana della progettazione che è una specie di workshop all'interno di quello che è il corso di Industrial Design realizzato dal Consorzio Universitario di Pordenone insieme con l'ISIA di Roma. È una settimana importante perché vedrà le prese i nostri ragazzi con quelli che sono gli elementi concreti, gli luoghi simbolici della città per affrontare e progettare delle soluzioni che possano essere condivise da tutti e soprattutto che possano ricadere positivamente sul territorio. Questa settimana vuole creare un contatto importante tra una scuola, un centro di elaborazione di ricerca di pensiero e un territorio con la sua storia, il suo assetto industriale e istituzionale. Io sono convinto che in momenti come questi, che mi auguro sia il primo di una serie, possa veramente creare un legame occupazionale per i ragazzi che si sperimenteranno su tematiche proprio di casa loro ma con una mente globale, con un pensiero filosofico e di design complesso. L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non soltanto sostenere ma addirittura compiacersi di quello che è questa iniziativa a cui noi auguriamo il meglio e soprattutto auguriamo che dalle idee dei nostri giovani nascono delle soluzioni interessanti per tutta la nostra comunità.